In questi sei anni ho consegnato la mia sceneggiatura olio su mela a tutti, ho dato veramente. Sono dure che ti cerco qui nel bosco. Stiamo a Villa Borghese. Beh diciamo che nel campo della calzatura mi sento la più competente, quello di un po' superbia. Lui si chiama Sanis Jaquim Bonplap del Pioppo e è tipo mezzo greco. La madre è francese, il padre invece è umbro, però non è bizzante. Devono scopare sempre. Capitiamo una fatica però eh. Beh ma perché quanto vi basta voi? C'è un'oretta. Un'oretta? Che minchia fai un'oretta? Io dopo un po' dico gioia mia mi devi mandare a casa tesoro. Tu gliela devi abbassare la sicurezza, ok? Gli fai tipo amore ma che te sta venendo la stampiata, sono troppo carina amore io ti amo pure se chiedi la pelata, mi ci speglie. Non è la quali ma il colore della pelle conta. Potremmo fare direttamente forse a Londra. Quando a Londra? Pantelleria. Da Pantelleria. Posso che mi dai una data? Una data. Sara. Con i peduini, le stelle. Una coordinata. Non lo so, argentario. Non ce lo diciamo. Non me ne frega niente se mentre rimango indifferente... Mi trovate qua! La mia è una bella storia! Non me ne frega niente di niente... Sognami. Mi devi sognare. Niente di niente... Non me ne frega niente di niente di niente di niente di niente...